adesso vi confesso un segreto quando non avevo la barba ancora ero solito disegnarmelo uno si dice come te la disegnavi? matita nera rubata a mia madre scusa mamma per tutte le matite che ti ho consumato col senno di poi direi mai più mai più mi godo un buon caffè nel mio bar preferito preferito perché chiaramente con il mare dietro non potrebbe essere altrimenti peccato che il mare io lo possa vedere solo così come mi vedete sia molto vestito, anche troppo pantalone, maglietta, maniche corte questa è la porzione di carne che rimane scoperta da qui a qua, basta e questo è il massimo di sole che posso prendere c'è il Guinness World Record a Rimini delle persone che si svestono in maniera più veloce per buttarsi in acqua io invece arrivo con calma mi guardo intorno controllo che ci sia meno gente possibile perché mi sento sempre molto osservato chiaramente una persona che non si svesta andando al mare attira un po' l'attenzione purtroppo addirittura una volta prima di iniziare la transizione quindi prima di prendere ormoni ero ad un bar con due miei amici e vedevo due ragazzi da lontano che sghignazzavano, mi indicavano al che uno a un certo punto si avvicina e mi chiede senza mezzi termini ma sei un maschio o una femmina perché il mio amico pensa che tu sia un maschio ma per me è impossibile perché hai dei pantaloni talmente stretti che con quelli addosso ci si dovrebbe vedere qualcosa in mezzo alle gambe dopo due ore che hai detto di essere trans la gente viene lì e ti dice ma quindi adesso hai il cazzo? scusa se ho tardato a rispondere stavo innaffiando la mia pianta di cazzi per noi ragazzi transessuali la cosa più bella nella nostra situazione è che una volta che ci cresce un po' di peluria in viso che ci cresca una grande barba come quelle di Dan Bilzerian che si ha due peli come quelli di Dosolliri le persone smettono un po' di domandarsi a quale sesso tu appartenga Abbiamo un trucco noi ragazzi transessuali per farci crescere la barba chiaramente ed è questo questo è testosterone ossia l'ormone che io assumo per raggiungere il corpo che sento mi appartenga dal lato fisico abbiamo dei cambiamenti nel viso e anche nella struttura del corpo proprio il viso chiaramente si snellisce raggiunge dei tratti più maschili cresce un po' di barba ovviamente peli in generale non solo barba anche più peli sulle gambe sulle braccia sul petto sulla schiena sulla pancia dappertutto nel mio caso prima di assumere testosterone ero una persona molto più aggressiva ero più tendente ad arrabbiarmi anche per sciocchezze così come ero molto più tendente a piangere assumendo testosterone il tutto si è stabilizzato molto nel senso che riesco a vivere le cose con più pacatezza e non riesco più a piangere molte volte quando succedono delle cose per cui avresti bisogno di piangere per sfogarti non riesco non esce niente mi metto per strada seduto mi sforzo terribilmente come uno scemo e non esce neanche una lacrima una cosa di cui vado molto fiero è il modo in cui mi è cambiata la voce prima di iniziare il testosterone facevo io da solo degli esercizi chiamiamolo così per abbassare la mia voce quindi parlavo con un tono più basso rispetto al mio naturale e la voce ho sentito che si è molto abbassata nel corso del tempo chiaramente un lavoro molto lungo una volta introdotto il testosterone la differenza è stata abissale già nell'arco di due o tre mesi basta guardare qua attenzione il treno regionale veloce 21-31 arriverà con un ritardo di 79 minuti perché mia nonna stamattina ha avuto la diarrea attenzione attenzione il treno regionale veloce 21-31 arriverà con un ritardo di 79 minuti perché mia nonna stamattina ha avuto la diarrea il rapporto con il mio corpo è sempre stato molto travagliato negli anni precedenti alla transizione mi sono sempre visto un po' come fuori posto come se il mio corpo proprio non avesse niente a che fare con me nonostante tutte le difficoltà è il mio vedermi male allo specchio comunque mi rendo conto che per quanto riguarda la società ossia il modo in cui gli altri mi vedono io ad oggi passo bene come ragazzo passare significa che le persone non si chiedono neanche più a quale genere tu appartenga la prima volta che ti incontrano e questa penso sia, o almeno per me lo è la più grande soddisfazione per una persona transessuale adesso sono a un anno e un mese di terapia precisamente però il mio rapporto con il corpo è ancora molto difficile ancora non riesco a vedermi bene io ho deciso di sottopormi sia la mastectomia che all'isterectomia perché sento che il mio corpo deve subire queste modifiche secondo me ad oggi la falloplastica è l'operazione più complessa purtroppo la chirurgia è ancora molto indietro per quanto riguarda la falloplastica non si riesce ad arrivare ad un fallo che sia simile a quello biologico sono operazioni molto invasive che finché rimangono nell'immaginario e non si concretizzano ci si rende bene conto di che cosa veramente significhi io stesso non l'ho ancora fatto ma sento che quel momento cambierà la mente resistenza ho realizzato che Dio esiste proprio al compimento del mio primo anno di terapia quando ero pronto a fare la mia dodicesima iniezione e prendendo la fialetta in mano Dio ha permesso che cadesse e si frantumasse grazie Dio di aver permesso che le fialette venissero create in questa maniera così fragile che solo guardarle si frantumano e soprattutto grazie di avermi rotto proprio la cosa più importante nella mia esistenza proprio l'ultima fiala che avevo disponibile veramente grazie questo messaggio addio proprio purino che in realtà non c'entra niente secondo me che sono anche imbecille però tutti noi abbiamo il diritto di stare meglio con noi stessi che non significa raggiungere la presunzione di essere perfetti perché penso che nessuno riesca ad arrivare a quel punto però è nostro diritto avere il coraggio se ci vediamo male di dire cosa posso fare per migliorare non per piacere di più agli altri ma per sentirci meglio con la persona che siamo per svegliarci la mattina guardarci allo specchio e dire bene questo sono io, questa sono io ho i miei limiti, ho i miei difetti cose che non mi piacciono però perlomeno sto costruendo la persona che sento di essere little by little piece by piece I take back what's been stolen from me little by little piece by piece until I'm complete I'm complete